Ben trovati da Tg della Mobilità, Centocelle per un evento gastronomico è chiusa via dei Castani tra Piazza dei Mirti e via delle Robinie, deviate fino alle 23 le linee 313, 542, 548, 556 e C5. È prevista per le 13 la conclusione della mezza maratona di Roma con l'arrivo di tutti gli atleti in via dei Fori Imperiali. Sempre nel pomeriggio sono programmate le rieperture delle strade dal centro al Flaminio e il ripristino del trasporto pubblico.